Da una parte c'è la carenza di personale infermieristico e operatori sociosanitari, dall'altra il sensibile aumento dei ricoveri nei reparti Covid dell'ospedale di Biceglie e così scatta nuovamente l'allarme sui livelli di assistenza e sulle condizioni di lavoro degli infermieri costretti ad affrontare turni estenuanti restando bardati per diverse ore nei reparti Covid. A fotografare una situazione che sta tornando critica è il sindacato Fialz in una lettera urgente inviata al commissario straordinario dell'ASL BT Alessandro delle Donne. I posti letto in malattie infettive sono nuovamente tutti occupati nell'ospedale bicegliese ma mancano infermieri e operatori sociosanitari per coprire in maniera adeguata i turni di lavoro. A giudizio di Angelo Somma rappresentante della Fialz la direzione generale dell'ASL BT starebbe sottovalutando le criticità dell'ospedale di Biceglie con la sottostima del fabbisogno di personale infermieristico e di OSS. Tanto più che molti operatori sociosanitari avrebbero raggiunto i requisiti per la stabilizzazione previsti dalla legge Madia ma sono ancora in attesa dell'apposita procedura di assunzione a tempo indeterminato. E così si corre il rischio a giudizio del sindacato di dover costringere il personale infermieristico a svolgere mansioni che non gli competono. Intanto nell'ospedale di Biceglie si sta procedendo alla apertura di un altro reparto Covid mentre sostiene la Fialz nulla sarebbe stato fatto per l'organizzazione degli spazi dedicati ai pazienti Covid e nella individuazione dei percorsi no Covid che avrebbero garantito, si legge nella nota sindacale, la riapertura di tutte le attività dell'ospedale di Biceglie andando ad alleggerire le liste di attesa di pazienti ortopedici, chirurgici e di altre unità operative vanificando di fatto gli sforzi di un ritorno alla normalità. Per fronteggiare questa emergenza, conclude la Fialz, serve quanto prima reclutare infermieri e operatori sociosanitali.